la faccenda raga è cambiata esatto c'è stato raccontato che una simpatica ragazza cinese qualche anno prima è finita dentro il geyser beh allora lì come fai a sopravvivere? no non è sopravvissuto un rimedio sia cileno che peroviano boliviano sono le foglie di coca corretto a casa possiamo dire se avete mal di testa una bella tirata lo è stato apposto e la gente ci si può arrampicare ne sono volati giù due o tre no li hai visti signori ben ritornati in questa nuova incredibile stupefacente puntata di Imi Grati Podcast no 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 sei caduto nell'inganno caduto nell'inganno e adesso dopo questa cosa ormai ti sei già sbottonato perché ormai sei stato vaccinato va bene non ti preoccupare quindi oggi Imi Grati Podcast con un personaggio un grandissimo stimatissimo collega collega di lavoro ossia Paul ciao ragazzi grazie mille per avermi invitato è un piacere è un onore essere qui ma guarda è un vero onore è tutto nostro intanto anche perché attingeremo dalla tua sapienza lo capisco porteremo a casa la puntata esatto anche io sarei onorato al posto vostro assolutamente assolutamente intanto come stai? tutto bene? parlaci un po' di te che lavoro fai per permettiti di fare dei viaggi enormi? no in realtà sono un povero di merda però però nonostante questo dato che io è la mia signora che salutiamo se ci sta ascoltando possiamo trovare un nome con cui chiamarla un alias anche non per forza il suo nome è vero la signora la signora lei sa chi è la signora tu sai chi sei quindi io sono un ingegnere nella vita ingegnere di che tipo? meccatronico quindi un ingegnere serio quindi? sono tutti seri dai beh è opinabile gestionali? i gestionali? noi apprezziamo tutti anche gestionali? no no sono va bene dai anche gestionali ormai sono 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 ingegneri sono più morbido e niente sono ingegnere nella vita però da qualche anno da quando possiamo un po' ricominciare a viaggiare siamo io e la signora appunto siamo soliti cercare di fare qualche vacanza un po' oltreoceano magari un po' all'avventura e quest'anno nello specifico poi ne parlerete introdurrete meglio voi ma siamo andati in Sud America ah così spoiler così senza ritegno no no entriamo però ci piace ci piace ci piace allora oggi partiremo dal Cile ok andremo verso la Bolivia per terminare il nostro viaggio in Peru allora innanzitutto dacci un periodo un periodo storico stagione quando è che è successo? allora noi ci siamo andati in agosto quindi nella nostra stagione estiva questo agosto che è appena passato che per loro 2023 attuale proprio che però per loro è l'inverno perché lì ok è al contrario è sotto le potere quindi molto probabilmente faceva più freddo di quello che farebbe in Italia assolutamente sì ok e voi ad agosto avete deciso di andare in un posto così freddo beh non è una cosa stupida anzi secondo me hanno fatto più che bene quindi la nostra mappa è abbastanza chiara siamo Cile Bolivia e Peru vogliamo partire magari dal Cile qui ci hanno detto addirittura una bellissima città ossia Santiago del Cile ok la capitale la capitale la capitale interessante che cosa hai visto nella capitale allora siamo arrivati appunto nel pomeriggio quindi abbiamo abbiamo colto proprio il momento di maggiore vita della città la cosa che più che più stupisce subito all'arrivo è la differenza di inquinamento che c'è rispetto all'Europa che tipo di inquinamento inquinamento sia dato dai veicoli che non sono non c'è quella classificazione Euro 0 Euro 5 quindi ambientale esatto ma gran parte dei cittadini comunque viaggiano su auto molto più datate giustamente certo e quindi anche che generano emissioni di tipo diverso rendendo l'aria sicuramente più più pesante da respirare in più essendo loro avendo loro appunto un impianto economico che si regge molto su agricoltura e quant'altro l'inquinamento generato da questo provoca questa nube di smog che all'arrivo ti colpisce perché tu arrivando dall'aeroporto quindi poco fuori dalla città ti vedi questa nube che copre le montagne nella tua di Correggio Emilia non capito molto peggio molto peggio sì sì assolutamente aiuto diciamo che si vede questa nebbia scusatemi fitta che in realtà non è altro che sporcizia smog ci sono delle zone e poi dipende ovviamente dai periodi perché lì essendo inverno l'inverno è rigido e non è piovoso quindi in quella stagione essendoci poca pioggia si accumula tutto sì sì ristagna esattamente e quindi essendo in una vallata lei si accumula lì alla base e non va più via certo è la storia di Reggio incredibile sei andato a Reggio Reggio nel Cile cioè hai deciso di partire da Reggio fare migliaia di chilometri per tornare a Reggio Reggio nell'Emilia Reggio nel Cile è così che funziona Reggio nel Cile però li parlano spagnolo ma ho visto che tu sei entrato a gamba tesa dicendo subito la cosa negativa che ti ha colpito fin da subito ammorbidisci un po' la pillola e dici a questo punto la cosa positiva esattamente sono partito dal negativo perché ho detto nonostante questo quindi nonostante questa caratteristica che colpisce subito chi ci va certo poi sei catapultato in una realtà totalmente diversa opposta a quella in cui siamo noi chiaro cioè una città molto viva una città piena di persone per strada che commerciano tutti quanti ok commercio di che tipo? esatto dal cibo materia prima quindi il pollo spennato venduto per strada ha cose cotte quindi le empanadas che sono un classico negli stati del sud poi ognuno ha le sue in Cile ci sono quelle più salate in Bolivia per esempio sono anche dolci tendenzialmente forse anche come ripieno non so il tipo di carne che usano esattamente commercio lì per esempio pochissima gente fuma dato un po' lo smog dato un po' la situazione il fumo non è non è una cosa così comune come da noi però è consentito negli spazi pubblici è consentito ma c'è tantissimo commercio diciamo di pacchetti di sigarette sulle bancarelle non sono invece di contrabbando esatto un po' di contrabbando diciamo così ok 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 ma è poco comune non si vede molto e quindi sì siamo immersi in questa realtà in cui ci sono questi mercatini tantissima gente in giro tantissima musica tantissima tantissima musica sia suonata per esempio una delle cose che c'è molto lì ci sono questi personaggi che girano con delle gran casse sulle spalle spieghiamo da casa perché non tutti sanno vai hai ragione ok la gran cassa fondamentalmente in una batteria è la parte grossa che c'è in basso al centro che si prende col piede esattamente perché voi magari stavate pensando a una cassa tipo JBL una cassa molto grossa ok no con un charleston sopra che invece è il piatto che si apre e si chiude e tutto tramite il piedino loro tirano il charleston e suonano la gran cassa ho visto una cosa simile anche in Svizzera interessante la gran cassa la prendono col tallone giusto? esatto e quindi questa qui è stata la cosa appena siamo arrivati ho incontrato un passante che mi ha chiesto se fossi peruviano quindi sembro un peruviano e lì e lì cosa hai pensato? magari voleva truffarti magari era un complimento magari sì come un peruviano ma come un peruviano i peruviani non sono molto scuri sono scuri e sono bassi ma che cazzo c'entri però sono bravissime persone cosa c'entri con i peruviani? non lo so si vede che era un passante un po' strano che ti devo dire ma tu all'inizio hai detto che a differenza di qua lì è una città molto più viva ma tu il paragone lo stavi facendo a Reggio dove abitiamo noi tutti quanti o diciamo alla media delle città italiane che ne so se vai anche a Napoli anche Napoli sia una città molto viva dove appunto le persone magari suonano per strada anche Roma Milano esatto allora il paragone che viene fatto spesso è la città del Sud America assomiglia alla città del Sud Italia ok quindi ci avevo beccato è vero ma in parte sì perché comunque si nota un atteggiamento culturale diverso chiaro non per forza in positivo o in negativo è proprio cioè senti che non sei in una città del Sud Italia ok senti che sei in una città del Sud America proprio perché tutto quello che ti circonda è sudamericano non è facile da descrivere le persone il come si comportano è diverso da come ci comportiamo noi è proprio un approccio diverso alla vita ci vivresti? a Santiago del Cile probabilmente sì ma lo smog è un grande è un grande no domanda però aspetta lì c'erano delle persone tipo in Cina ci sono le persone che girano con la mascherina proprio per lo smog lì è la stessa cosa? allora in Santiago no alla Paz per esempio dove arriveremo dopo sì ok quindi il tuo viaggio è continuato e siamo andati a quello che a me sembra il Val Paraiso esatto che sembra Valle del Paraiso sempre in Cile si trova sempre in Cile però questa volta ci spostiamo verso la costa ci spostiamo sull'oceano ok fantastico è una bellissima città molto molto colorata e la caratteristica principale oltre al fatto che è sul mare è proprio la presenza di questi graffiti la città è molto molto colorata c'è per esempio anche una scalinata adesso non ricordo la scala di Mozart se non sbaglio ok è molto molto bella anche in questo caso la città si sviluppa in altezza quindi si sviluppa su una collina certo ah pensavo no grattacieli no in questo caso non tanti ok si sviluppa in altezza proprio perché è su una montagna barra collina up and down esatto quindi tantissime sali e scendi e in questi sali e scendi tu sei proprio accompagnato dai graffiti che vengono appunto che sono presenti su tutte le varie pareti e ci sono molte stradine si molti vicoli appunto soprattutto nei vicoli c'è il cuore della vita ci sono le attività commerciali e quant'altro una cosa particolare del sud america non so se se lo sapete è purtroppo piena piena di cani randaggi ma veramente si l'avevo sentito parlare di questa roba qua dei cani randaggi beh devo dirti in Calabria ci sei mai stato? poche volte poca roba in Calabria è uguale che poi sono quei classici cani ci sono statissimi cani randaggi in Calabria quei classici cani col pelo corto con la coda all'insù che sono proprio sporchi cioè non propriamente sporco ma a chiazze il problema non è la sporcizia ma il fatto che appunto è come i gatti in alcuni posti sono un po' infestanti però diciamo che a parte i cani a me sembra di percepire che questo qua sia più che più che quello precedente ossia Santiago è più una città artistica sì è molto molto bella ma il discorso degli animali non è una cosa negativa perché attenzione nonostante siano cani randaggi sono molto tranquilli anzi proprio perché probabilmente sono abituati comunque alle persone a tantissimo turismo io immagino che siano come i gatti randaggi nel senso che semplicemente vogliono guadagnarsi da mangiare qualcosa e basta si sono amalgamati con la vita dell'uomo esattamente esattamente una delle cose più caratteristiche del posto sono i mezzi di trasporto ok infatti non c'è tanta gente che gira in taxi non ci sono treni non ci sono collegamenti aeroportuali tra le due città ci si arriva solo in autobus e dentro la città si muove con questi piccoli van che sono praticamente immaginatevi un van della volkswagen quindi il classico volkswagen hippie smontato con dentro tanti piccoli sedili e una portiera che rimane sempre aperta classe ce ne stanno quante vuoi ah se c'è un limite e gli autisti che sono veramente veramente degli ottimi piloti ok che cosa fanno si fermano quando vedono qualcuno appunto che chiede la fermata perciò il solito cenno però non ci sono posti ci sono delle fermate si si fermano un po' dove capita ci potrebbero anche essere tipo delle fermate comuni che ne so io il municipio e roba del genere ma generalmente in questi posti funziona che ovunque tu sia vedi il minivan che passa a vuoto a mezzo pieno fa il cenno lui si ferma buona scusa un attimo è un servizio statale o è una roba che i privati fanno per conto loro è un servizio statale no credo sia comunque in parte statale se ci sono delle fermate scusa legalizzato dallo stato esatto no beh diciamo che non ci sono cioè ci sono delle fermate ma per esempio anche nelle città più grandi ci arriveremo anche dopo alcuni girano in due quindi il pilota diciamo colui che guida l'autista il cacciatore e l'accompagnatore che ai semafori scende e inizia ad urlare che c'è l'autobus chi vuole prendere l'autobus a qualsiasi semaforo in qualsiasi momento se c'è il traffico il van è fermo lui scende c'è il van venite salite questo qua urla tutto il tempo tutto il tempo tu ne hai preso uno sì solitamente ha anche il compito di raccogliere i soldi no perché a Valparaiso non c'è questo soggetto non c'è l'aiutante fanno tutto da soli quindi che cosa fanno tu punti la mano il dito quant'altro lui si ferma bello ma non si ferma nel senso che blocca il mezzo di trasporto rallenta tu sali al volo gli dai soldi mentre in moto gli dai soldi ma che cazzo è lui stacca il biglietto che è un rullo lui stacca anche il biglietto allora ok tutto questo mentre sta andando tutto questo mentre sta andando è un po' più ufficiale allora se c'è un biglietto ok prendono molto seriamente i biglietti in Sud America e stacca il biglietto lo porge assieme al resto il tutto mentre è già ripartito ed è già sfrecciato lungo la strada certo non è che vai 30 va perché devi andare perché più va più soldi fai più soldi fai hai notato i classici maranza che non pagano il biglietto ci sono allora è una cosa diversa cioè se tu sali su un mezzo di trasporto e dici non ho il biglietto molti autisti ti dicono vai non ti preoccupare non c'è questa mentre invece lì nello specifico col fatto che l'autista te lo fa sul momento cioè tu quando entri porti i soldi e lui ti dà il biglietto ma non ci sono abbonamenti no in questo caso no ok quindi è impossibile diciamo sfuggire magari se ce la fa si mette tipo non puoi sfuggire se appena sale devi pagare eh sì lo so di solito quando c'è magari tanto caos succede che no perché lui mica guarda la strada lui guarda il passante che sale che cazzo gliene frega della strada la strada è dritta a livello culturale chissà non è che voglia effettivamente truffarti semplicemente non c'è questo concetto esatto non c'è probabilmente perché sono i prezzi sì no i prezzi sono molto sono molto convenienti erano abbastanza bassi adesso non ti so dire quanto ma secondo me un 40-50 centesimi per la corsa però loro guadagnano molto meno non te lo so dire questo dato che ci sei salito come ti sei trovato benissimo no molto divertente perché poi lui lascia sempre la portiera aperta dentro l'aria se tu vuoi scendere ti lanci giù se qualcuno vuole salire si butta su quindi è molto divertente noi l'abbiamo usato per arrivare sull'oceano ci sta molto bello ci sta ci sta molte città hanno questo sistema e alla fine poi si crea proprio una comunità di persone che c'è questa roba qui che tu appunto prendi il minibus se così vogliamo chiamare e vai a proposito di oceano hai nei piani di parlarcene o nel senso allora noi abbiamo fatto una piccola pocciata posso dire pocciata sì sì avete intinto solo il piede poco gamba perché comunque essendo inverno ed essendo oceano è propriamente freddo l'avete inzuppato leggermente esatto solo un po' pocciato c'era chi faceva il bagno c'era chi faceva il bagno ah beh sì direi proprio però noi non abbiamo non abbiamo avuto la garra da bravi mediterranei avete evitato l'oceano come la peste giustamente è molto freddo sì sì è abbastanza freddo beh soprattutto d'inverno considera che lì appunto era inverno beh cosa vuol dire l'oceano mediamente è molto più gelido d'inverno rispetto ai mari sì in generale è più freddo sì anche banalmente perché è più profondo anche spesso e volentieri anche perché è proprio molto più esteso del nostro esatto cioè ci sono vari fattori e poi sulla spiaggia lì vanno molto i giugos che sono i succhi va tantissimo la frutta venduta in succo quindi sono questi mega beveroni che ti fanno mischiando i vari frutti di stagione sono spremute d'arancia oppure spremute frullati di fragole frutta di stagione sì sì sono molto buoni quando tipo vai in viaggio con le agenzie ti consigliano sempre di non mangiare la frutta del posto soprattutto se è fresca ci arriviamo non qui no il Cile non ha avuto questo problema è un problema che abbiamo riscontrato più negli altri due stati diciamo che avendo visitato quasi solo la capitale del Cile si riusciva diciamo a vedere molto un approccio europeo ecco nonostante fosse sudamericano San Pedro de Atacama esatto così in questa voce qui molto velocemente è il posto da cui partono i tour da qui partono tutti i tour per la Bolivia questo è un piccolo villaggio nel deserto quindi proprio da immaginare il classico villaggio del far west perciò pieno di sabbia si si pieno di sabbia ponte di fieno che rotolano poncio e questo qua spiga di grano molto bella molto molto wild ok però si non ha niente di la particolarità è proprio che sei in un villaggio nel deserto sei circondato da niente c'è solo deserto e ci vivresti? no San Pedro no grazie mi sta venendo una domanda c'è già parlato di tre città e ci hai detto che si parla ovviamente in spagnolo si immagino sia uno spagnolo latineggiante leggermente diverso ma voi come vi relazionavate col pubblico? in italiano in italiano sì in italiano? sì perché che cazzo? perché lì fondamentalmente nessuno parla inglese ok io non parlo spagnolo ok la mia signora parlava poco spagnolo e quindi a un certo punto si parlava in italiano ma i spagnoli e spagnolo sono simili diciamo che il ponte di collegamento alla fine è italiano sì dipende cioè nel senso io ho sentito dei latini in Spagna quando ci sono stato e non riuscivo a capirli invece gli spagnoli sì non so hanno tipo uno slang strano sì va avanti finché qualcuno dei due non molla la conversazione beh quindi tu a San Pedro sei partito poi per la Bolivia esattamente e siamo finiti nella laguna verde sì allora noi siamo partiti ma effettivamente era verde? quando l'abbiamo vista noi no ecco è sempre così ma che schifo le copertine mentono sempre vabbè però ci sono andati d'inverno con tutta la nebbia lo smog nebbia lo so che cazzo ne sai te l'inverno l'ha detto la famosa nebbia no beh sì ma in Cina ma sì capito qua siamo nel mezzo del deserto qui siamo già inizia l'altitudine iniziamo a sentire il cambio di altitudine perché siamo circa a 2500 metri punto di partenza del viaggio è un viaggio di tre giorni che si svolge in jeep si parte da San Pedro e si arriva ad Uyuni ok quindi in tutti questi tre giorni noi attraverseremo paesaggi sperduti fondamentalmente della Bolivia immersi nella natura fino ad arrivare alla rigogliosa città di Uyuni laguna verde perché non era verde perché non c'era vento è il vento che smuovendo i minerali che sono sul fondo la colora la colora quindi mancava un ingrediente essenziale quindi si suppone che in questa immagine bellissima ci fosse vento esatto noi abbiamo visto una pozza d'acqua fondamentalmente merda bella però una bella pozza dovete vado a pucciarvi dietro e sotto o dentro o quello che è ti sparano ti sparano perché? no non si può ma perché c'è qualche ah esatto una riserva naturale esattamente è assolutamente protetto ci vivresti? molto bella ci vivrei dentro nella pozza considerate che la temperatura qui iniziava ad essere sugli zero gradi ah attenzione aiuto ma il fatto che appunto fosse zero gradi e l'altezza inizia a far sentire hai avuto episodi di mal di testa o qualcosa di strano? più avanti più avanti nella seconda nella seconda tappa di giornata ancora manco prima o poi è stata la seconda tappa di giornata arriverà poi andiamo ai famosissimi geyser sol della mananananana esatto qui siamo a 5000 metri quindi da 2005 subito nei denti 5000 metri il primo giorno ok in questo momento a parte il fatto che c'era vento quindi qua c'era il vento ok le pozze si sarebbero viste esatto peccato che non ce n'erano si sentiva il calore sotto i piedi quindi io nonostante avessi le scarpe col fatto che ci sono questi geyser tu senti effettivamente il calore del geyser che c'è sotto ok c'è stato raccontato che una simpatica ragazza cinese qualche anno prima credo fosse prima del covid non aveva ascoltato la guida la guida che cosa fa ti dice da adesso in poi dal momento in cui tu scendi dalla jeep segui me perché ci sono punti che stanno per diventare dei geyser ma che non lo sono ancora quindi è meglio non io lo so tu no lei fa eh vabbè vabbè così è finita dentro il geyser ma in che senso dentro il geyser dentro la pozza proprio eh vabbè allora lì come fai a sopravvivere no non è sopravvisto non sopravvivi a 100 gradi ma com'è stato camminare con questa dicotomia tra il caldo sui piedi il freddo gelato sopra bello dicotomia soprattutto ti piace la dicotomia non ti stavi cagando addosso cioè tu sei nelle mani di questa di questa guida ci sono delle zone di passaggio in cui tu effettivamente vedi che la terra è più scura o che comunque sei più vicino a un geyser lo capisci fondamentalmente ma anche questa allora come minchia ha fatto a caderci dentro eh bro che cazzo ti devo dire ma come si riescono appunto a distinguere però i punti che hai detto da allora tendenzialmente come ti dicevo prima di tutto senti il calore sotto i piedi quindi se tu sei in una zona non pericolante non senti il piede bollente mentre invece vicino ai geyser tu sentivi la suola proprio calda ok e poi cambia colore dato che eri a 5000 metri e dici che li sentivi no un rimedio sia cileno che peroviano boliviano sono le foglie di coca corretto te le hanno offerte le hai provate allora le abbiamo comprate comprate a San Pedro di Atacama ok li vendono sia le foglie che le caramelle allora le foglie capitolo un po' spiacevole perché le foglie sono un aiuto ma anche un peggioramento sotto alcuni casi perché danno moltissima nausea soprattutto se masticate perché c'è chi le mastica se invece fatte ad infuso diciamo che non ti danno così tanta nausea però possono portarti problemi intestinali ok ma quali sono perché dovrei prendere questa foglia ti dovrebbe aiutare a farti passare il mal di testa per l'altitudine esatto dato dall'altitudine ok in realtà anche solo bere molto di più tende ad aiutarti questi invece mangiano le foglie di coca idioti la signora ne ha abusato proprio di questi infusi di coca e lei infatti non ha avuto tanto buona la coca e lei infatti è morta no no ancora la signora ci è rimasta da dipendenza comunque perciò se avete mal di testa c'è il rimedio c'è questa piccola fialettina ok di alcol aromatizzato al limone fondamentalmente ok che loro ti spalmano in testa ok iniziano a massaggiarti la testa certo oppure in alternativa se non vuoi il massaggio la metti in mezzo alle mani e dai tre respironi belli forti ti tira una botta tre sniffatine che ti passa tutto te lo posso garantire la botta arriva stringe i vasi sanguigni ok non lo so però ti tira una bella mazzata e tu per un po' vai avanti a casa possiamo dire se avete mal di testa una bella una bella tirata lo è stato a posto proprio dritta alla fine della fiera tu ci vivresti nei geyser sol de mananana proprio dentro ai geyser no è scomodo è scomodo anche se è caldo è un po' scomodo è perché risparmi sul riscaldamento assolutamente laguna colorada che è abbastanza autosplicativo come nome incredibile ti credo che siete riusciti a comunicare in italiano dove è la laguna colorata ho già capito no bella questa è rosa quindi l'abbiamo vista rosa è effettivamente colorata sì sì è colorata perché c'era vento anche in questo caso alla mattina presto dove il vento è un po' più basso non si vede il colore sì probabilmente tira fuori il ferro o il rame che c'è nell'acqua sono le alghette che mangiano i fenicotteri fantastico alla nascita no però alla nascita sono ancora grigi perché appunto non si sono ancora nutriti di queste alghette fantastiche questo è un posto meraviglioso perché siamo come puoi vedere anche dall'immagine siamo proprio sotto il vulcano questo è un vulcano un vulcano alto 6500 metri più o meno chiaro siamo nel più profondo nulla proprio il silenzio siamo immersi nella natura anche qui niente pucciare i piedi no ti sparano ma sparano ovunque io non ho capito no se la prendono male cioè non puoi far niente non puoi far cazzo non ci puoi neanche avvicinare non puoi neanche imbruttirli non puoi manco guardarli male no figurati no 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 non ti devi permettere lì ci siete arrivati in macchina quindi sì sì tutto quanto in jeep la jeep ti scarica proprio davanti ai posti e poi dopo tu puoi girarci questi posti che stiamo vedendo adesso li avete fatti tutti nello stesso giorno quindi da 2005 5000 questo è tutto il primo giorno allora eravate da soli su questa jeep o c'era un'altra jeep dietro o davanti? no ci sono svariati tour che partono contemporaneamente noi nella jeep eravamo in sei il driver la nostra guida che parlava solo lei inglese e altri due passeggeri quindi però dico dietro di voi non c'era un'altra jeep già pronta che vi seguiva seguivano altre jeep con altri passeggeri e si arrivava generalmente nella visita di un posto c'erano 5, 6, 7, 8 jeep animali che si possono incontrare oltre ai fenicotteri? Pikachu beh beh sì è raro con pokemon go intendi? no 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 proprio quello da cui hanno preso Pikachu è quest'animaletto che fondamentalmente è un topone ok è molto carino è un topo cieco fondamentalmente ma è giallo ma è grosso come una nutria? sì è un bel ratto però non dà la scossa? no niente scossa ho provato no non si fanno avvicinare sono ciechi non ci vedono sentono e basta sono molto carini e poi gli altri animali questa è una domanda molto dalla facile risposta i lama tantissimi ah è interessante non ci avevo pensato i lama con il poncio e il sombrero l'alpaca gli alpaca sono più in Peru in Bolivia più lama sono più belli i lama però come fai a distinguerli? i lama sono meno gonfi hanno il pelo liscio mentre invece gli alpaca hanno il pelo riccio e ce l'hanno soprattutto anche in testa sono più rotondi è vero poi li tosi esatto li tosi e ci fai le varie cose loro li mangiano ci vivresti in questa laguna? sì molto bella però ci vuole la casa una casetta lì davanti alla laguna molto bella però non deve essere chissà quanto suggestivo insomma quindi è una landa è una landa desolata con solo il lago alla fine però così me lo sminuisci no perché intorno non c'è niente c'è solo quello ci sono solo le montagne i vulcani è una vallata ma tipo non c'è un rifugio dove una persona può andare volendo assolutamente ok prossimo location questo viaggio della speranza incredibile siamo a Valle de Roccas che mi verrebbe a dire sono Valle delle Rocce sei un ottimo spagnolo migliore di me comunque mamma mia allora prima diciamo una cosa dove abbiamo dormito perché anche questo questo è il secondo giorno la notte tutto questo è il secondo giorno io pensavo fossimo all'ottavo no no questo è il secondo giorno di tour il quinto giorno ah ok va bene ci sta dove abbiamo dormito l'alloggio nel mezzo del nulla quello che dicevamo c'era un piccolo alloggino gestito da una signora boliviana immaginatevi la classica signora un po' bassina con la gonna col cappello girano tutti col cappello perché lì a quelle altitudini se becchi il sole ti strina nonostante fosse inverno ripetiamolo con zero gradi inverno il sole è più forte più vicino alla terra poi lì sei sei molto più vicino al sole perché sei in alto non credo che dipenda dalla vicinanza dipende da come cadono i raggi perché i raggi sono più inclinati e quindi sono molto meno efficaci questa casa ok gestita da questa signora senza corrente senza elettricità salvo non lui salvo escluso dalle 8 di sera alle 10 di sera solo 2 ore 2 ore di corrente in tutta la giornata solo 2 ore non c'erano i riscaldamenti ok con il cellulare non prendeva 3 giorni senza telefono potevate morire noi per 3 giorni siamo stati esclusi ma non vi ha messo ansia sta cosa dico oddio ma se mi succede qualcosa qui è bellissimo è bellissimo per farti vedere quando tu sei dipendente dalla tecnologia ma senza cellulari esatto per 3 giorni senza cellulare potrei anche supervivere però il fatto è che so che stanno andando in posti che potremmo potrebbero essere potenzialmente pericolosi ma sono posti dimenticati da Dio non è vero sono bellissimi sicuramente io ho detto addio a tutti è giusto e niente in questo posto non c'era quindi l'elettricità non c'era il riscaldamento ovviamente chiaro non c'era l'acqua calda non c'erano le docce bella vacanza che vi siete fatti aspetta scusate una cosa io non ho capito c'erano solo due ore di corrente ma perché le staccava lei o cosa? sì perché veniva accesa solamente per quelle due ore perché c'era solo ce n'era poca dovete considerare che siamo appunto in una casa lontana da tutto dove appunto il comfort non fa parte dell'offerta c'è solamente un bel letto con delle belle copertone questa notte qui non ho dormito niente perché era la prima notte a 2006-2007 il freddo e la temperatura scendeva sotto gli 0 gradi meno 5 meno 8 meno 10 senza riscaldamento ci volevano delle belle coperte ci volevano delle belle coperte siamo andati alla valle delle rocce qui ci sono due o tre rocce importanti la prima è la coppa del mondo è una roccia che guardata da una certa angolazione ricorda la coppa del mondo la seconda è un cammello quindi ricorda proprio il cammello anche qui c'è un aneddoto divertente sono abbastanza alte è una specie di monument valley ok sei stato la monument valley no? tre volte all'anno ci va tre volte all'anno non so nemmeno dove sia bene penso negli Stati Uniti sì nella parte della costa ovest ci sono mai stato negli Stati Uniti non fa niente non fa niente allora sono molto alte comunque immaginiamo queste queste rocce alte 800-1000 metri ok e la gente ci si può arrampicare stando attenta ne sono volati giù due o tre durante un tour no li hai visti no 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 durante un tour me l'ha raccontato la mia guida mi ha detto abbiamo visto della gente che si arrampicava e hanno detto da lì c'è caduta parecchia gente ma va ma questo che cazzo che cazzo è il rischio del mestiere no vabbè ma mi dà fastidio che per fare una scalata decidi che è accettabile il rischio è affrontabile ma perdi la vita non è che ti sopravvivi pensa alla cinese se c'è il 70% di rischio di morire il 30% di sopravvivere mi sembra una percentuale dipende dal punto di vista io nella foto vedo che è praticamente un deserto però tu mi racconti che effettivamente è freddo arriva poi nella stagione estiva e diventa bollente è bollente di giorno è anche bollente di giorno a voglia tu parti che è il freddo della vita verso le 10 di mattina le 11 di mattina puoi starci in bolletta esatto immagino che puoi cuocere della roba sulle rocce da quando sono bollenti tipo temperature che arrivano di giorno secondo me quando siamo stati noi sarà arrivati a 20-25 gradi vabbè dai hai visto qualche animale particolare esotico in questa zona no qui principalmente quei pikachu di cui parlavo prima sempre pikachu che sono ratti sono ratti va bene poi dopo andiamo alla bellissima canon della anaconda è un canyon è una forma di serpente bellissimo ci vivresti? no no quanto quanta anaconda su 10 li diamo questo posto? 7 e mezzo 7 e mezzo di anaconda va bene salar della Uyuni di Uyuni Uyuni allora questo salar prende il nome dalla città anche se in realtà non è ad Uyuni allora è un deserto di sale bello che cosa ha di speciale a parte il fatto che è un deserto di sale che nella stagione delle piogge ok anzi un pelo prima della stagione delle piogge quindi quando ancora inizia a piovere ma non piove tanto viene ricoperto da un piccolo strato di acqua circa due dita più o meno una roba del genere questo fa sì che non si riesca a distinguere il cielo dalla terra fondamentalmente quindi diventa il più grande specchio del mondo esattamente diventa uno specchio gigantesco circondato appunto da queste montagne che appunto sono tutte intorno ma lì quando cammini ti vieni in cazzo sì con il riflesso sì e poi durante la stagione di piogge invece arriva 40-50 centimetri d'acqua quindi è totalmente inarrivabile perché ovviamente i gips sprofonderebbero immagino che siamo uno di quei posti che se non ci vai lì con bel tempo è magari tutto nuvoloso grigio è brutto da morire no anche col grigio è bello anche col grigio è bello sì voi avevate del grigio noi avevamo del pulito del cielo pulito però anche col grigio secondo me merita molto ok 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 però quando ci siamo andati noi non c'era l'acqua perché era la stagione invernale quindi la stagione è secca ma sai il perché è pieno di sale? immagino ci fosse un mare sì all'epoca fosse che era un mare ed è diventato un salar volevo farti questa domanda in realtà la guida ti ha parlato del mare che c'era in precedenza sì si parla di svariati millenni fa ovviamente e semplicemente adesso ci sono questi strati di sale se si scava in profondità c'è ancora dell'acqua fondamentalmente bisogna andare molto giù e la cosa interessante è che scavando all'interno di queste forme geometriche ok si trovano i cristalli di sale sono proprio i cristalli allo stato puro fondamentalmente non si possono togliere non si possono portare via è totalmente vietato l'importazione l'estrazione di questi cristalli assolutamente perché hanno una riserva naturale anche quella esattamente perché tu volevo anche chiedere se li usavano immagino che anche le forme geometriche si è andato dal fatto proprio della molecola del sale che porta proprio poi questo pattern in tutto il mondo ci vivresti? si si no è assolutamente mozzafiato ed è freddo impestato di notte noi siamo andati a vedere l'alba ha raggiunto i meno 10 gradi fantastico al prossimo posto isola dei cactus mi sembra isola e knusa così senza leggere bene in ca quasi non lo saprei leggere ma si sono d'accordo isola in quasi qualcosa del genere sul salar ci sono svariati isolotti molti di questi hanno i cactus ce n'è una che ha più cactus degli altri questa è l'isola dei cactus il concetto è questo sulla cima dell'isola è un isolotto che si può scalare c'è un cactus maestro quindi il cactus più grosso e c'è un altare un altare su cui si fanno i sacrifici alla madre terra bellissimo sacrifici umani? no in questo caso principalmente sacrifici di animali i sacrifici umani però in Bolivia comunque vengono ancora fatti le motivazioni sono diverse ma ho l'impressione che nella seconda parte di questa puntata effettivamente ne parleremo dalla strada della morte? non ne hai parlato? strada della morte arriviamo 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 allora piccolo piccolo break ragazzi bye ciao 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 ciao